Con Rossano Rossi, allenatore della formazione di Serie B2 della palla a volo grossito Giorgio Peri, facciamo un po' il punto della situazione. Sono arrivate due sconfitte nelle prime due giornate, siamo solo all'inizio. Rossano, c'è tutto il tempo per recuperare? Sì, ovviamente sì, le prime due giornate abbiamo messo in conto che era una via difficile, la terza sarà ancora più difficile perché è in trasferta a Terracina. In questo momento dobbiamo ritrovare la fedeoce ai nostri mezzi e sicuramente non deprimerci, la strada è ancora molto lunga. Ce l'avamo sentita all'inizio settimana, dovevi parlare un po' con la squadra per capire un po' anche perché di questo non andamento benissimo, soprattutto nella seconda giornata. questo, tra virgolette, confronto c'è stato? Che cosa vi siete detti? Che cosa ha detto la squadra? Sì, sì, c'è stato il confronto. Dobbiamo avere la forza, la voglia di rimanere in partita, di giocare gli scambi lunghi e non liberarci subito dalla palla. Questo ci porta a fare delle scelte sbagliate sulla situazione, leggerla male e poi incappare in errori gratuiti, che in questa categoria, ma in tutte le categorie, sono poi la cosa che ti blocca di più. Ora abbiamo messo un po' di punti, vediamo di ripartire con fiducia, sappiamo che comunque abbiamo di fronte una squadra tra le più forti del girone, quindi sarà dura comunque anche sabato. Attualmente la squadra è tutta convocata o c'è qualche infortunio? Stiamo valutando Tocci, che appunto non era disponibile a Trevi per un problema muscolare, sembra però che sia in fase di riassorbimento. Stasera farà il primo allenamento e vediamo un po' al 90% dovrebbe essere schierabile e quindi dovremmo tornare al sestetto quello base. Terracina ha solo tre punti in più di voi, come già hai anticipato tu, è una squadra costruita per vincere il campionato, però al momento non è riuscita a esprimersi al meglio. Sì, Terracina è una squadra che tutto sommato un po' ci assomiglia, nel senso che anche loro hanno cambiato diversi giocatori, hanno cambiato un allenatore che ha un trascorso importante in Superlega, quindi comunque un tecnico importante, hanno uno dei giocatori più forti del campionato del nostro girone. Anche loro si sono imbattuti contro Anzio e lì non sono riusciti a fare partita, vengono via da un 3-0, che tutto sommato non ci facilita il compito, perché sicuramente nella partita in casa cercheranno poi di riprendere la strada che si sono prefissati. Che cosa ti fa più paura della trasferta di Terracina, che fra l'altro giocherete sabato alle 17, sabato 26 ottobre, la forza tecnica dell'avversario o la poca tenuta mentale della tua squadra? Perché tecnicamente la squadra c'è. Sì, tecnicamente la squadra c'è, sicuramente l'avversario farà il suo, e noi come ho detto specialmente su Barboni, il loro attaccante principale, non possiamo snotonare il nostro gioco per cercare di limitare un giocatore che sia in giornata è poco limitabile. Noi dobbiamo tenere bene il nostro mani di tutela sull'aspetto mentale e sul nostro quadrato di campo. Da lì parte tutto, perché se riusciamo comunque a esprimere i nostri valori, credo che comunque possiamo fare partita con qualsiasi avversario. È ovvio che in questo momento la fiducia non è proprio al massimo, ma dobbiamo trovare dei piccoli puntelli che ci permettono di stare in partita con la voglia di stare lì a lottare pallone su pallone.